Ed ecco le informazioni dalla redazione di Biella. Ogni anno all'ospedale di Biella nascono circa 1000 bambini. Il 90% nasce a termine, il 10% prematuri. I bambini vengono dati alla mamma subito dopo il parto e rimangono nella camera di degenza con lei. Gli immaturi invece hanno bisogno di cure intensive e vengono accolti nelle termoculle umidificate, riscaldate e fornite di monitor nel reparto di neonatologia diretto da Anna Perona. I piccoli pazienti sono assistiti con apparecchiature all'avanguardia. Coinvolti anche i genitori con l'importante ruolo di collaborare con l'equipe medica per il benessere fisico e psicologico del piccolo. Al peggio servito è il progetto finanziato dalla Regione Piemonte per la rete sentieristica valsesiana. Ha come obiettivo la realizzazione di itinerari escursionistici a piedi, in bicicletta e a cavallo. Il progetto potrà essere di forte richiamo per conoscere una tradizione che rischia di scomparire. I territori si trovano a cavallo delle tre vallate valsesiane sulla dorsale che divide la Valsesia dalle valli ossolane confinanti. Borgate montane, rifugi e soprattutto alpeggi saranno il nucleo del progetto. È in vigore la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Sono vietati gli interventi estetici che modificano l'aspetto di un animale, quali il taglio della coda, la recisione delle orecchie, la sportazione delle unghie, dei denti e delle corde vocali. Lo sportello degli animali d'affezione del servizio veterinario dell'ASL di Biella resta a disposizione per i chiarimenti necessari. Fino al 29 aprile al Museo del Territorio e nello spazio cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, terza edizione di Memorandum, festival di fotografia storica. L'annuale rassegna espone fotografie di varie epoche e diverse aree geografiche tratte dagli archivi istituzionali. L'evento, in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e il Ministero per i beni e le attività culturali. Domenica 25 marzo il castello di Buronzo ha aperto le porte ai visitatori che hanno ammirato gli affreschi, i loggiati panoramici e i resti medievali di una fra le più significative fortificazioni piemontesi. E dalla redazione di Biella è tutto.